Ah però, come hanno fatto presto, a passare ad altro, a mettere via il microfono Ah però, finita l'intervista, era già tutto a posto, pronto per il prossimo Tutto quell'interesse è così vero, come a dire ci pensiamo noi Ah però, come hanno fatto presto, a cambiare faccia appena spento il microfono Ah però, hmmm, ah però